ciao a tutti oggi vediamo queste bellissime lime diamantate per unghie si tratta di lime in acciaio inox prodotte in italia e in particolare a premana dove sono specializzati in attrezzature per manicure e pedicure in acciaio inox qui vediamo che abbiamo quattro misure diverse e tutte queste lime hanno due grane una più grossa e una più fine un'impugnatura ergonomica anche molto elegante satinata le misure in particolare vanno dalla più piccola che di 9,5 cm alla più grande 18 cm ora le vediamo nel dettaglio ecco la più piccola 11 cm 15 cm 15 cm infine questa più lunga 18 cm hanno una durata lunghissima proprio grazie all'alta qualità della loro produzione vediamo anche la lunghezza proprio della lama partendo dalla più piccola da un 6 cm e mezzo 7 cm la seconda 9 cm e mezzo e infine la più lunga che è ben 12 cm e mezzo di lama sono molto robuste non si piegano durante l'utilizzo a differenza di molte altre che tendono a piegarsi queste sono molto rigide e tutte sono ben confezionate con i propri astucci proprio per poter essere anche portate facilmente in giro nella borsa e non beauty case può essere anche un elegante regalo e sicuramente fareste bella figura perché davvero la qualità è ai massimi livelli se vi interessano queste limette o tanti altri articoli adatti a manicure e pedicure li trovate sul nostro sito elettronicadidattica.com io vi aspetto per i prossimi video se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale elettronica didattica ciao a tutti a presto